Da oggi nello Musumeci ufficialmente il nuovo presidente della regione siciliana a Palazzo d'Orleana è avvenuto il passaggio di consegne con Rosario Crocetta che ha regalato a Musumeci il libro In viaggio in Sicilia di Ghete. Stuffe nelle sale operatorie, Coda Gons chiede espressione del Ministero della Salute. L'ASPA si scusa per il disagio causato da un problema riscaldamento in alcune parti dell'ospedale Maria Paterno Arezzo. immediato l'intervento dei tecnici. Con due operazioni distinte a Santa Croce, Camerina Ispica e Carabinieri hanno arrestato tre pusher e sono stati sequestrati i 35 grammi di droga. Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari dell'arma. La solitudine di internet, Facebook, Whatsapp e la comunicazione immaginaria. Questo è il tema dell'incontro che si è tenuto a liceo convitto alla presenza del professor Alberto Giovanni Biuso, docente di filosofia. Ancora ben trovati a questa nuova edizione di MTG. Da oggi lo avete sentito Nello Musumeci è il nuovo presidente della regione siciliana, almeno ufficialmente proclamato dal presidente della Corte d'Appello di Palermo. Il neo governatore non ha nascosto la commozione dopo aver udito l'investitura. È un pensiero dopo i ringraziamenti diritti, l'abbraccio alla nipota, al figlio, agli amici. Più cari che per lui sono arrivati a Palermo per l'occasione. Proclamato stamattina anche Giancarlo Cancelle rispetta lui di diritto entrare all'Assemblea regionale siciliana in quanto è arrivato secondo, era candidato anche lui alla presidenza della regione. Però il deputato Pentastellato non si è presentato alla Corte d'Appello di Palermo. E dopo la proclamazione Musumeci è andato a Palazzo d'Orlean dove ha incontrato il predecessore, il governatore uscente, Rosario Crocetta. Per noi sul posto Sara Donzuso. Proclama eletto la carica di presidente della regione, di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, voti 829.970, onorevole Sebastiano Musumeci, nato a Militello, in Val di Catania. Espletate le formalità di rito presso il Tribunale di Palermo, Nello Musumeci si è spostato a Palazzo d'Orlean, sede della regione siciliana dove ha ricevuto le consegne dal presidente Crocetta. Uno scambio simpatico fra il governatore uscente e il neo governatore. Entrambi hanno regalato l'uno all'altro dei libri, dei libri per parlare di questa terra che ha tanti problemi, problemi che ha sottolineato Musumeci nel suo intervento. Bisogna ridare fiducia a questa terra e bisogna ridare fiducia ai cittadini che devono diventare protagonisti e non non semplici spettatori. La Sicilia che ha il diritto di tornare a sperare e con i sindaci abbiamo il dovere di confrontarci senza demagogia, senza forzatura sulle cose che obiettivamente possono e debbono essere fatte. La situazione è difficile però noi politici abbiamo il dovere di essere portatori di speranza. Guai se la politica non dovesse più nutrirsi di ottimismo e non dovesse più restituire alla gente il diritto a sperare. Io voglio rinnovare il mio grazie ai siciliani che hanno creduto nella mia battaglia, ho detto nel mio primo intervento e approfitto Presidente per ricordarlo anche in questa occasione, vorrò essere davvero Presidente di tutti. Ha regalato un libro al neo governatore Nello Musumeci, il governatore uscente Rosario Crocetta, il viaggio di Ghete in Sicilia per evidenziare quanto sia bella questa terra che si deve ancora lavorare per renderla migliore. E' questo l'ausilio che giunge dal Presidente uscente che sottolinea come lui e Musumeci siano persone coerenti ma interessati da cambi di casacca. Il governatore uscente Rosario Crocetta ha accolto a Palazzo d'Orleans il Presidente Nello Musumeci. Ha parlato di questa Sicilia, della coerenza che contraddistingue entrambi e dell'importante lavoro che si deve fare per portare questa terra verso successi migliori. Il Presidente Crocetta ha poi regalato un libro, i viaggi di Ghete in Sicilia, al neo governatore. Ecco le parole di Crocetta. Resta il fatto che al di là di ogni idea politica che si rappresenta, rimane l'esigenza del bene comune, rimane l'esigenza della buona amministrazione, rimane l'amore che noi dobbiamo avere per questa terra. Io contraria un'idea ad altri, non ho avuto la difficoltà a riconoscere la sua vittoria perché mi sembra talmente chiaro. Farò una vittoria su cui lei ha lavorato, che mi pare oggettiva, sembra oggettiva, costruita. Ci troviamo a confondarci due persone estremamente coerenti con le loro opposizioni che non si sono caratterizzate in questi anni sicuramente per i campi di casacca, di colore. Abbiamo mantenuto i nostri principi. E la identità. E la nostra identità. Questo sicuramente è un modo di pensare alla politica, per carità, poi ognuno può cambiare idea, appartiene alla libertà dei cittadini e appartiene persino alla Costituzione. Dice che c'è il divieto di mandato imperativo, per cui rientra fra la libertà delle persone, nessuno può giudicare nessuno. Io le auguro sinceramente buon lavoro e glielo auguro prima di tutto per il bene che voglia questa terra. E dopo il passaggio di consegne il presidente Nello Musumeci si è fermato a parlare con la stampa, è intervenuto sui programmi ma anche sulla nuova giunta da comporre. Sentiamo cosa ha detto. Sto lavorando alla giunta di governo, quindi il mio impegno la prossima settimana sarà essenzialmente finalizzato a questo. Ho già incontrato ieri il ragioniere generale della regione, col quale assieme al professore Armao e al direttore dei fondi comunitari abbiamo fatto il punto della situazione. Inutile dire che la condizione finanziaria dell'ente regione è assai grave e però abbiamo il dovere di programmare le prime essenziali iniziative. Tenete conto che la cassa chiude agli inizi di dicembre, noi non abbiamo ancora un bilancio perché non è stato adottato, non è stato adottato il documento di programmazione economica e finanziaria. Ci troveremo quindi a lavorare nei prossimi giorni per intanto curare lo strumento finanziario. Andremo in aula per chiedere l'esercizio provvisorio, spero soltanto per un paio di mesi. Insomma i tempi sono davvero ristretti ed io mi auguro che l'assemblea possa insediarsi prima possibile. Come sapete per procedere a fissare la data di convocazione serve che l'ultimo dei 70 deputati sia stato proclamato dagli uffici competenti. Quindi in questa fase non dipende dall'organo politico ma soltanto dall'organo giudiziario. Io credo di non avere per il momento altro da aggiungere se non ringraziarvi per la presenza. Ultima pagina, vi parliamo adesso delle stufe nelle sale operatorie perché il CODACON si ha chiesto un'ispezione del Ministero della Salute e l'ASP si è scusata con i degenti del Maria Paternò Arezzo a Ragusa e si è scusata anche con i familiari per il disagio che stanno vivendo a causa di un problema di riscaldamento in alcuni reparti dell'ospedale ragusano ed è immediato anche l'intervento dei tecnici dell'ASP. In sala operatoria con le stufe non funzionano gli impianti di riscaldamento all'ospedale Maria Paternò Arezzo a Ragusa e i medici corrono ai ripari ma mettendo a serio rischio la salute dei degenti. Il CODACONS ha chiesto l'invio dell'ispettore del Ministero della Salute all'apertura di un'indagine sulle possibili riparcussioni sul fronte della sicurezza e increscioso ha denunciato Francesco Tanasi segretario nazionale del CODACONS che all'interno di un luogo preposto alla salvaguardia delle vite umane come la sala operatoria di un nosocomio si possa ammettere a repentaglio l'incolumità stessa dei pazienti e del personale medico infermieristico. La causa del disservizio in questione è imputabile a un gasso il gruppo di continuità che ha messo fuori uso l'impianto di climatizzazione costringendo la direzione a sospendere per un giorno tutta l'attività della sala operatoria della sala parto e di parte della diagnostica ha denunciato il CODACONS. Immediata la replica del commissario dell'ASP 7 di Ragusa Salvatore Lucio Ficarra molto attento e pronto a trovare una soluzione per scongiurare e limitare i disagi. L'azienda sanitaria è intervenuta anche con una nota dell'ingegnere Gaetano Cilia, il capo servizio tecnico il quale ha chiarito che è stato immediato l'intervento dei tecnici dell'ASP per assicurare momentaneamente una soluzione provvisoria che garantisca condizioni minime per superare il problema tuttavia si sta già provvedendo a mettere in campo interventi più duraturi e definitivi idonei ad assicurare la piena funzione del servizio di riscaldamento in tutto il presidio. Entro brevissimo tempo si legge nella nota dell'ASP di Ragusa che si è anche scusata con i degenti e i loro familiari per il disagio che stanno vivendo. Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri. Due operazioni distinte a Ispica e a Santa Croce e Camerina hanno portato all'arresto di tre pusher al sequestro di 35 grammi di droga. La cronaca è di Carmela Minardo. Tre arresti, due espicesi ed un tunisino, sequestrate 35 grammi di droga. È l'esito di due distinte operazioni di controllo dei carabinieri sul territorio provinciale effettuate ad Ispica e a Santa Croce e Camerina. I militari dell'arma del nucleo operativo radiomobile di Modica la scorsa notte hanno colto in flagranza di reato due espicesi di 22 e 32 anni a bordo di un'auto sospetta. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a fermare il mezzo e a identificare le due persone. Nel corso della fuga il passeggero aveva lanciato dal finestrino un involucro che i militari hanno recuperato, contenente 10 grammi di cocaina già divisa in 20 dosi. Rinvenuta anche una consistente somma di denaro, considerata verosimilmente provento dello spaccio. Dubbiamente anche questa operazione ci dimostra come le droghe pesanti, come la cocaina in questo caso, sono all'ordine del giorno nella movida, in questo caso nella movida della cittadina di Ispica, ma siamo riusciti a bloccare un quantitativo rilevante, 10 grammi che rappresentano circa 20 dosi che poi immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 600 euro. La droga per quanto ci riguarda è un obiettivo primario, il suo contrasto è il comprendere da dove arriva per evitare che possa poi essere immessa nel mercato al minuto. Altra operazione, altro fermo. I carabinieri della compagnia di Ragusa ieri sera a Santa Croce e Camerina hanno arrestato un ventenne tunisino trovato in possesso di 25 grammi di ascici pronta per lo spaccio. In particolare i carabinieri stavano monitorando da diversi giorni il giovane, la cui presenza era stata più volte notata nei pressi dei luoghi conosciuti come piazze dello spaccio. Da qui la decisione di fermarlo per eseguire una perquisizione, a seguito della quale veniva rinvenuta la sostanza stupefacente che nascondeva in una tasca del proprio giubbotto, già suddivisa in 18 stecchette pronte per la vendita al dettaglio. Il giovane sprovvisto di documenti è stato identificato successivamente. Si tratta di una persona che era stata già respinta alla frontiera e che è rientrata nel territorio italiano nel 2016. Per questo motivo è stato anche denunciato per ingresso illegale. Lo stupefacente sequestrato verrà inviato presso il laboratorio analisi dell'Aspi di Ragusa per i previsti esami finalizzati ad individuarne il principio attivo. È una piaga che ritroviamo spesso nei nostri servizi e la maggior parte delle volte, quindi vengono fermati i soggetti che utilizzano le sostanze stupefacenti per avere un risvolto finanziario ed economico maggiore. Presto, tra qualche mese, addirittura entro sei mesi, il cioccolato modicano potrà avere l'IGP. Lo ha reso noto il presidente della Camera di Commercio del sud-est, Pietro Agen, ieri in visita a Modic. Rilanciare lo sviluppo di questo lembo di Sicilia attraverso un'efficace operazione di marketing, la costruzione di una rete che colleghi, porti e aeroporti sono gli obiettivi del neopresidente della Supercamera di Commercio. Pietro Agen, l'uomo che detiene il controllo dell'economia ragusana, catanese, siracusana, è arrivato ieri mattina a Pozzallo perché l'area portuale venga inserita nelle zone economiche speciali per beneficiare di finanziamenti e creare finalmente una rete con Augusta e Catania. A Modica, Agen, accompagnato dall'amico di sempre, Peppino Giannone, già presidente della Camera di Commercio di Ragusa, ha incontrato il sindaco Gnazzi Abate e il presidente del consorzio di tutela del cioccolato modicano, Nino Scivoletto. Obiettivo è apporre l'etichetta IGP nelle barrette del loro nero modicano, un iter lungo e travagliato, ma che probabilmente vedrà la luce entro sei mesi, come ha garantito il presidente Agen. Dovremmo essere in dirittura d'arrivo, che servono semplicemente due chiarimenti di tipo tecnico e che quindi nel giro di pochi mesi, diciamo sei mesi, dovremmo essere arrivati alla definitivo riconoscimento, che è un ulteriore passo di un lungo percorso fatto a mio parere splendidamente bene, è uno dei prodotti che sta crescendo meglio. Abbiamo parlato degli allevamenti e quindi di un intervento nella zootecnia e abbiamo anche parlato di una piccola iniziativa culturale che io vorrei portare a Modica, la presentazione di un libro dove si parla di un vecchio legame fra la mia terra e Modica. Qual è il legame, l'anello di congiunzione di queste due grandi realtà? Al solito erano i commerci, perché i Liguri sono sempre stati i grandi viaggiatori per via mare, quindi venivano qui per commerciare, poi spesso si fermavano qui dove scoprivano eccellenze meravigliose, e nasceva questo, alcuni poi ci sono rimasti per sempre, i Ventimiglia, i Grimaldi. Che idea si è fatto del territorio ibleo? Che è uno dei pochi territori siciliani dove si è capito che assieme si vince e da soli si muore. Il sindaco Ignazio Abate ha rilanciato, proponendo una sinergia costante per fare crescere e valorizzare la città della Contea nell'ambito di progetti culturali e culinari. Abbiamo voluto esaltare quelle che sono le nostre peculiarità e quelle che sono le eccellenze nelle nostre aziende. Non ci può essere sviluppo in Sicilia, nel nostro territorio, se non si sta accanto alle aziende e se generalmente non si coltivano e non si dà la possibilità di crescere. Abbiamo detto che i due momenti importanti devono essere di promozione all'interno del circuito regionale e nazionale. Per noi sono il momento importante di Ciocco Modica, che è quello che fa esaltare in tutto e per tutto anche la città di Modica. E poi quello importante che abbiamo da qualche anno ormai istituito, che è quella della fiera agricola della Contea Zootecnica. La Giunta Municipale di Modica ha deliberato un provvedimento che aiuta i contribuenti, dando loro la possibilità di poter usufruire degli sgravi sul pagamento dell'Atari dal 2012 al 2017, che dovevano essere richiesti ogni anno e di poter aderire anche alla maxirateizzazione. in 72 rate mensili senza interessi, con rate calcolate secondo il reddito ISEE, che possono variare dai 30 euro ai 100 euro al mese. La richiesta di sgravio potrà avvenire attraverso presentazione al protocollo comunale di una domanda scritta contenente le motivazioni per poter richiedere gli sgravi e contestualmente aderire alla rateizzazione. Abbiamo voluto ancora una volta, dopo tutti gli appelli e le possibilità di poter regolarizzare la posizione debitoria, ha scritto il sindaco Ignazio Abate, dare una nuova opportunità di collaborazione ai cittadini e alle imprese della nostra città. È stata effettuata la polizia straordinaria nell'area del porto di Pozzallo, dove prima insistevano delle vere e proprie discariche abusive. Ne avevamo parlato già un paio di settimane fa nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. Il primo cittadino, Roberto Ammatuna, aveva assicurato un intervento tempestivo e adesso lancia un appello alla cittadinanza. Ce ne parla Giada Giacquinta? È da qualche giorno che abbiamo iniziato la polizia delle zone più critiche della periferia della città, in cui esistono delle discariche abusive che veramente non danno una bella immagine della nostra città. Abbiamo iniziato con la zona portuale, continueremo con la scuola Siamo Amici, perché è un asilo dove c'è una discarica abusiva, dove c'è del materiale che contiene amianto. Nell'area portuale di Pozzallo, in particolare all'altezza del secondo scivole della strada che conduce a Santa Maria del Focallo, prima insistevano delle vere e proprie discariche a cielo aperto, con rifiuti di ogni sorta, scarti di cibo e scarti edili. C'erano rifiuti abbandonati anche sugli scogli. Ne avevamo parlato, come ricorderete, un paio di settimane fa nel corso del nostro telegiornale. Il sindaco della città, Roberto Ammatuna, allora ci aveva assicurato un intervento tempestivo, consistente nella rimozione dei rifiuti e la decisione di prendere dei provvedimenti, quali maggiori controlli da parte della municipale e l'installazione di telecamere per scoraggiare e individuare gli autori dell'abbandono di rifiuti. Rifiuti che, a detta del sindaco, venivano abbandonati continuamente non appena la zona veniva prontamente ripulita. Inoltre il sindaco lancia un appello alla cittadinanza ai nostri microfoni. Io ritengo che occorre anche la buona collaborazione di tutti i cittadini. Dobbiamo avere una città più pulita e questo nell'interesse non solo del sindaco e dell'amministrazione, ma io direi di tutta la città di Pozzallo. Un'alternanza scuola-lavoro, caro libri, trasporti e dipendenze da droghe e dal gioco d'azzardo. Sono questi i temi di cui si è discusso ieri nel corso di un incontro di ieri pomeriggio che si è tenuto alla Domus Antipetri a Modica, organizzato dal sindacato studentesco rete degli studenti medi di Modica. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. Ieri, venerdì 17 novembre, gli studenti italiani sono tornati in piazza per il diritto allo studio in occasione della giornata internazionale degli studenti. A Modica, anziché scendere in piazza, gli studenti hanno organizzato un incontro formativo per trattare tematiche vicino allo studente, come spiega Adriano Falzone, responsabile comunicazione del sindacato rete degli studenti Modica. Oggi è il 17 novembre, data nazionale, sin dal 1939, in cui ci fu una repressione da parte delle forze dell'ordine di un gruppo di manifestanti in cieco Slovacchia. A livello nazionale il sindacato studentesco, ovvero la rete, è sceso in piazza con una manifestazione. Noi abbiamo invece deciso di fare un incontro formativo che rende più lucide le nostre coscienze. Questo incontro verte su alternanza scuola-lavoro, trasporti e legge del diritto allo studio, che appunto la Sicilia è l'unica regione in cui la legge manca. Altro tema sono le dipendenze, ludopatia, quindi da gioco e da sostanze stupefacenti. All'incontro hanno preso parte anche degli esperti per aiutare i giovani a far luce sui problemi che gli attanagliano maggiormente. Ieri sera poi la componente formativa impegnata ha lasciato spazio all'intrattenimento, quando dalle 20.30 si sono esibite in piazza Giacomo Matteotti le band The Nemesis e gli altolocati, a seguire lo spettacolo comico di Pietro Sparacino, noto stand-up comedian, che ha saputo attraverso l'ironia far riflettere i giovani trattando le tematiche discusse nel corso della giornata. La solitudine di Facebook, Whatsapp, Internet, la comunicazione immaginaria è questo il titolo dell'incontro che si è tenuto a modica al liceo convitto alla presenza del professore Alberto Giovanni Biuso. L'incontro è stato il primo di una serie di cicli e percorsi di conversazione di filosofia con gli autori, il cui obiettivo è quello di interpretare la realtà proprio attraverso la comunicazione. La comunicazione immaginaria perché tutti siamo connessi 24 ore al giorno tramite i nostri dispositivi e tuttavia rimaniamo sempre soli nel profondo. È un tentativo di indicare non soltanto i vantaggi della comunicazione digitale, della comunicazione sui social network, vantaggi che sono noti a tutti, ma anche gli elementi ambigui, gli elementi contraddittori, quello che non si vede. Il fatto che i social network siano in realtà un'espressione dell'assenza, cioè dell'assenza della compagnia con noi stessi e della compagnia reale con i corpi degli altri, sostituita dalla comunicazione virtuale come comunicazione immaginaria. Il professor Biuso ha sottolineato nel corso dell'incontro di ieri al liceo con Vitto di Modica come chi utilizza i social network si è imprigionato in una contraddizione. Si è sempre connessi, in contatto con gli altri, ma siamo sempre soli. Continua così Biuso che per spiegare come la realtà virtuale che creiamo con la nostra connessione perenne e comunicazione con i social network abbia la pretesa di sostituirsi alla realtà, fa riferimento anche alla società dello spettacolo, il saggio dello scrittore e filosofo francese Guy Debord, anche se il filosofo, venuto a mancare nel 1994, ha potuto assistere solo alla nascita di internet e non dei social network. Il professor Biuso continua dicendo che siamo allenati a causa del bombardamento di immagini che ci confondono su quale sia veramente la nostra realtà. L'evento di ieri è stato il primo di un ciclo di incontri dal titolo percorsi e conversazioni di filosofia con gli autori. Il cui obiettivo è quello di interpretare la realtà attraverso la comunicazione avvalendosi in quest'analisi della filosofia, come spiega la professoressa Teresa Floridio, organizzatrice degli eventi. Ci abbiamo deciso di indagare lo strumento della comunicazione, ma la comunicazione è intesa a 360 gradi, che può essere la comunicazione tra persone, come è cambiata nella società odierna, oppure i mezzi di comunicazione. Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. E quanto fatto questa mattina dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Lapira di Pozzallo e dei ragazzi dell'Associazione Prometeo, che hanno pitturato di rosso una delle panchine di piazza della Madonnina a Pozzallo. E la terza panchina colorata di rosso dopo quella di Scoglitti e Ragusa. Cadiuscia Carpentieri. Si colora di rosso una delle panchine di piazza della Madonnina a Pozzallo, quale simbolo e monito nella battaglia quotidiana contro il femminicidio e la violenza di genere. E' la terza panchina che viene colorata di rosso in provincia di Ragusa. Circa due mesi fa la stessa iniziativa fu fatta a Scoglitti, poi a Ragusa nei Giardini Blei. La panchina è situata lungo il viale dedicato a Pamela Canzonieri, la giovane ragusana uccisa in Brasile a Morro di Sao Paolo. A patrocinare l'iniziativa la Casa delle Donne di Ragusa e l'Associazione Prometeo Onlus, i cui ragazzi questa mattina, assieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo Lapira, hanno pitturato con vernice rossa una delle panchine di piazzetta della Madonnina, in pieno centro cittadino, un'iniziativa che anticipa la giornata mondiale della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, indetta dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Rappresenta un monumento civico, un simbolo, un simbolo di lotta contro la disparità, contro la violenza. La violenza e il femminicidio in questo momento sono delle tematiche assolutamente importantissime. troppo, troppo sta diventando la nostra società nei confronti delle donne, dei minori, dei deboli. Per cui noi siamo attivi, noi siamo attivi 360 giorni l'anno, ma in queste giornate siamo vicini alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che è il 25. L'iniziativa di oggi è stata sposata anche dall'assessorato ai servizi alla persona del comune di Pozzallo, retto da Alessandra Azzarelli. Questa giornata serve dal ricordo per le vittime e non è solo una giornata di memoria, ma anche cerchiamo di sensibilizzare la popolazione perché ormai questo fenomeno è sempre in crescita. Si parla di femminicidio già da 60 anni, ma solo adesso viene regolato mediante delle leggi. E' stata inaugurata questa mattina a Ragusa la nuova sede dell'ANMIL, che è l'associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro. Tra l'altro sono dei locali molto moderni e funzionali per rispondere alle esigenze di tutti e non solo di chi cerca lavoro, trovandosi in una condizione di disagio. 400 metri quadrati di locali nuove funzionali, di cui tre aule didattiche, una di informatica. E' la nuova sede dell'ANMIL che è stata inaugurata stamani in via Martoglio 3 a Ragusa. Oggi per me è la prima tappa di un sogno. Questo era un mio sogno che ho sempre avuto fin da quando sono entrato nel Consiglio nazionale. Però per realizzare alcune idee, alcuni progetti, devi avere tu le chiave e i corsi della cabina di regia. Appena eletto Presidente regionale, il mio primo pentiere è quello di creare la formazione e l'agenzia del lavoro. Ma non tanto per una cosa personale, ma per dare una speranza a tanta gente, a tanti invalidi, tanti orfani, tante vedove, che purtroppo a causa del lavoro, che non dovrebbe succedere, che perde la vita e che perde parte del proprio corpo. E sappiamo che la nostra, che è un datore di lavoro, quando c'è un importune sul lavoro, la prima cosa che fa è andare a licenziare. Stamani l'inaugurazione e la benedizione dei locali alla presenza tra gli altri dei vertici nazionali e regionali dell'Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri associati, e non solo ai nostri associati, ma a tutte le persone con disabilità e anche a tutti coloro che sono in cerca di occupazione, un sostegno, un aiuto in termini di formazione professionale, di orientamento al lavoro e anche di incontro fra domanda e offerta, quindi di matching con le aziende per un più rapido inserimento. Servizi per il lavoro generali ed obbligatori, quindi una prima formazione che favorirà l'incontro fra domande ed offerta. Si inizia con tre corsi per un numero di 20 utenti, due per operatori socio-assistenziali e uno per operatore socio-sanitario, che partirà a breve. Purtroppo c'è molta gente giovane, è me, che è vittima di infortuni ancora oggi sul lavoro, e quindi dare un percorso e un sostegno di politiche attive del lavoro completo, perché per me le politiche attive del lavoro non possono essere disconnesse non solo al percorso di orientamento, ma a quello che poi è un percorso anche formativo. Assicurare la vita ai lavoratori è molto importante, perché non vale la pena andare a risparmiare, cioè non ci sono soldi che possono andare a pagare una vita umana. E quindi lavorare in sicurezza è importante. È l'unica in provincia di Ragusa ad avere conseguito il diploma come docente nazionale formatore per le discipline olistiche bio-naturali XEN. Si tratta della ragusana Irene Aparo, che dal 1999 accompagna gruppi di adulti svolgendo il ruolo di facilitatore di crescita e sviluppo globale della persona attraverso la danza, movimento, terapia. Dalla 2000 al 2008 si è occupata di organizzare e realizzare per conto di associazioni private, laboratori anche per gruppi di bambini finalizzati alla crescita e all'integrazione. È davvero tutto con questa notizia. Grazie per averci seguiti. A tutti voi buon fine settimana. Grazie. 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 Grazie.